abbiamo il cuciniero con l'aiuto cuciniero che non sta facendo niente ecco sì però tu controlla e il sovretendente supervisione contro la qualità esatto a cacici per ecco perfetto chiudere 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 pure vai chiudere chiudere vai nel che sergio sto qua te e te e io a siete pronti a mangiare ragostina facciamo un sorriso per la presa ah dai su un cino facciate un cino mungi così prosi o le nostre ragostine come c'è molto buono è molto buono è molto buono è molto buono è bene bene forse stati bravi dai come è un insetto qualsiasi loro toccato ora si mangia tutto Grazie a tutti.